Buongiorno a tutti, mi chiamo Michele Preti del centro di saggio Astra Innovazione Sviluppo e da diversi anni conduciamo prove sperimentali di laboratorio semicampo e campo sulla cimice asiatica. Siamo qui in un pereto per mostrarvi la tecnica dei manicotti di rete dove conduciamo prove di campo con le cimici in ambiente confinato. In particolare appunto le cimici vengono racchiuse in questi manicotti di rete con una sorta di infestazione artificiale che permette da una parte di garantire un'uniformità di infestazione che molto spesso in condizioni naturali non è possibile garantire con la cimice asiatica. In particolar modo nell'ultimo biennio abbiamo condotto diverse prove con Kestrel, principio attivo acetamiprid, confrontandolo con altri formulati commerciali a base di acetamiprid alle dosi di etichetta e quello che è emerso è che Kestrel risulta essere comparabile per efficacia agli altri prodotti a base di acetamiprid garantendo ad esempio in una prova del 2019 già a un giorno dall'applicazione una mortalità per effetto diciamo abbattente dell'85% sui anni di terza età. Questa mortalità poi in quella prova è evoluta al 100% a sette giorni.